Grazie, io credo che questa sia una delibera assolutamente importante proprio per andare verso una valorizzazione paesaggistica, storica e archeologica dell'area come ricordava il consigliere Diaco, abbiamo fatto più commissioni proprio sul parco archeologico della Serenissima, ovviamente abbiamo coinvolto anche il quarto municipio che presedeva la seduta di commissione, abbiamo lavorato proprio come commissione cultura e con la soprintendenza nazionale proprio per provvedere a porre nuovi vincoli di tutela e in effetti il 30 il 30 aprile del 2020 è stato poi imposto un nuovo vincolo archeologico diretto e uno successivamente il 3 giugno 2020, insomma abbiamo avuto modo anche di trattare questo tema in commissione proprio con la volontà di andare a tutelare l'area con maggiore forza e andare a riconoscerne sempre più il valore per poi, grazie anche a questa delibera, avviare un percorso di cui già si è dibattuto che preveda la valorizzazione storico-ambientale dell'area. Ci tenevo a ribadire che abbiamo trattato non solo il tema dell'area del parco della Serenissima ma anche poche settimane fa abbiamo convocato sul parco Campania ma anche immagino all'area del parco di San Clemente abbiamo da sempre continuato a seguire la questione della cervelletta insomma sono tanti parco della Tiburtina e un altro che mi viene in mente su cui abbiamo fatto numerosissime convocazioni proprio per dire che anche per quanto concerne il quarto municipio insomma non è stato mai dimenticato, è stato sempre attenzionato sia dal punto di vista della valorizzazione che della tutela insomma di queste aree di enorme pregio e le convocazioni che sono state effettuate insomma ne sono la diretta testimonianza io ringrazio i diversi assessorati competenti con il municipio proprio perché si sono attivati hanno permesso di arrivare a questo risultato assolutamente storico e propedeutico finalmente alla valorizzazione di questo parco lineare dal potenziale straordinario grazie Presidente